ciao amici e bentornati alle recensioni canale dei paulino 1 continuiamo con la democratizzazione dei prezzi anche samsung ci dareta fortunatamente presenta il samsung galaxy pocket samsung galaxy pochi ne abbiamo già parlato se nel blog e su vari articoli che abbiamo visto nella rete in uscita marzo quindi si pensa già settimana prossima massimo i primi d'aprile dovrebbe essere sugli scaffali dicevamo prezzo comunque di fascia entry level quindi di ingresso alla portata di tutti ma il prodotto di buona qualità lo esamineremo in questa recensione quando fanno ancora uscito parleremo delle sue caratteristiche tecniche e della sua ergonomia in dato possiamo vedere che è veramente tascabile ha un'ergonomia veramente minimale essenziale senza spigolature questo ovetto diciamo come forma molto molto carina pesa poco quindi molto leggero portatile sia per chi lavora sia per il tempo libero consigliabile ecco diciamo appunto questo phone factor interessante anche perché è molto leggero e impugnabile allora andiamo subito con le misure di questo di questo smartphone pesa solo 97 grammi appunto l'abbiamo già detto è alto a un'altezza di 103,7 millimetri per una larghezza di 57 5 una profondità di solo 12 quindi è quello che balza l'occhio che è tutto appunto molto compatto e molto leggero per quanto riguarda il display è un capacitivo multi touch ovviamente 240 per 320 pixel a 2,8 pollici tft una buona qualità una buona qualità risolutiva un tft ovviamente quindi non è un amoled però comunque fa il suo lavoro egregiamente per quanto riguarda la batteria che monta monta una batteria da mille e duecento milliampere ora quindi garantisce comunque un'autonomia superiore alla giornata in secondo non consuma moltissimo è dotato di una connettività al top abbiamo wifi bgn abbiamo il bluetooth 3.0 abbiamo il appunto il gps la gps l'accelerometro la bussola magnetica quindi non gli manca veramente niente dal punto di vista della connettività ovviamente anche la entrata da micro usb per poter scambiare i dati col pc tramite il cavo micro usb monta la versione di android 2.3 gingerbread già aggiornata e sarà sicuramente aggiornabile da ice cream sandwich ancora non ho notizie ufficiali in merito ma sicuramente samson se non un modello nuovo lo aggiornerà anche la 4.0 di ice cream sandwich di android e cosa possiamo ancora dire di questo telefono ovviamente colore nero il primo primo colore disponibile sala di colore nero poi magari seguiranno altri colori parliamo un pochino dei tasti abbiamo un tasto fisico centrale stile galaxy s2 e i due soft touch laterale richiamo meno e freccia di ritorno sopra la feritoia dell'altoparlante per la chiamata la scritta samson veramente gorilla glass per il vetro quindi non ci fa mancare la qualità neanche nel vetro questa cornice in plastica ma molto carina che vedete qua ve la indico col dito a sinistra e tasti volume più o meno a destra tasto display spegnimento accensione dello schermo sopra abbiamo sia l'entrata per le cuffie 3,5 standard e la ricarica da micro usb nel retro adesso andiamo a girare con questa immagine lo schermo così potete vedere c'è una cam da 2 megapixel con fuoco fisso e senza flash led quindi dobbiamo accontentare anche dei video in vga ovviamente non abbiamo magari una multimedialità diciamo al top per quanto riguarda la videocamera la fotocamera ma abbiamo una fotocamera comunque che ci permette di girare delle fotografie sufficienti per degli scatti quotidiani se non abbiamo delle richieste assurde ecco da chi è un telefono di 119 139 euro la sua fascia quindi sicuramente dobbiamo chiedergli quello che può che può darci insomma quindi diciamo appunto fotocamera vga e 2 megapixel per quanto riguarda la risoluzione per quanto riguarda i formati audio li legge tutti i formati video li legge tutti quindi anche qui dal punto di vista della comunicazione con i nostri formati audio e video non ci sono problemi ovviamente 2.3 per gingerbread la versione android che conoscete già tutte le applicazioni standard già preinstallate market eccetera eccetera non manca nulla stile samsung quindi non sto neanche a dilungarmi magari su cose che già conoscete andrei magari più a parlare della memoria interna e della appunto del processore e di queste cose hardware che sono più importanti allora sicuramente la memoria interna 3 giga quindi non è tantissima ma è espandibile fino a 32 gigabyte con l'Sd quindi troviamo una memoria interna sufficiente per dei lavori diciamo non esageratamente pesanti con un'espandibilità però fino a 32 giga quindi anche qui non ci manca sicuramente nulla dal punto di vista della memoria che possiamo anche espandere e appunto avere una superiore memoria da poter gestire i nostri file per quanto riguarda il processore 800 megahertz quindi single core da 800 da 800 megahertz con 512 di memoria di ram quindi anche da questo punto di vista comunque classico processore ram per un entry level che per quello che deve far girare è sicuramente fluido veloce e non presenta degli impuntamenti quindi un dispositivo sia ergonomico sia compatto possiamo vederlo anche qua in un'altra fotografia perché è veramente sottile e leggero e piccolo per le funzioni di tutti i giorni sicuramente ci potrà dare una mano non gli manca niente è ovviamente quad band hs dpa a 3.6 megabit per secondo quindi anche dal punto di vista della connettività internet comunque veloce ha la funzione di hotspot per condividere ovviamente la nostra punto d'accesso wifi verso altri dispositivi quindi anche da questo punto di vista comunque fa il suo lavoro egregiamente io non ho altre cose da dirvi spero di avervi soddisfatti in questa recensione in questa prima questa avremo il telefono la possibilità di testarlo faremo una video recensione più appropriata per quanto riguarda appunto il device vero e proprio possiamo parlare un attimino forse ancora ecco una cosa il prezzo il prezzo 20 come dicevo si parla di 119 euro online 139 129 euro sugli scaffali quindi comunque una cifra poco superiore ai 100 euro quindi anche da questo punto di vista sono un dispositivo samsung direi che è un prezzo abbordabile alla portata di tutti quindi un dispositivo per tutti i giorni per tutte le tasche da depolino 1 e tutto ci vediamo sul canale su blog alla prossima ciao e grazie